musica oee bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e come ogni giorno ragazzi le news su fortnite non mancano mai oggi parliamo nella patch 14.30 appena uscita di tutto ciò che è stato inserito quindi mi raccomando mettetevi comodi non era una patch enorme non c'è purtroppo roba del fortnite mers perché arriverà un'altra patch a fine mese mi raccomando però ragazzi non dimenticate di utilizzare il codice creator xyuderone e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a vedere tutto quello che è presente nella patch 14.30 a partire dalle nuove schermate di caricamento questa è veramente bellissima come vedete è blade che va a fare un 1v1 con una delle skin vecchie di fortnite season 6 non mi ricordo adesso il nome della vampiressa e come vedete nello sfondo credo che ci sia un nostalgico montagnole maledetto è veramente molto molto bella proseguiamo ancora con l'inserimento del loading screen per quanto riguarda la finale dell'fncs vi ricordo che guardando la finale a fine mese potrete ottenere questo nuovo questa nuova schermata di caricamento e concludiamo con un'altra schermata dedicata al pack leggende corrotte quindi io l'ho già detto anche il live a me sembra molto battlefield questo stile perché i colori rosso e blu sono proprio caratteristici però molto molto bello e andiamo avanti perché tante sono anche le skin introdotte in questa patch 14.30 a partire dal centrale Daredevil vi ricordo la Daredevil Cup inizierà il 14 ottobre e permetterà alle squadre che si piazzeranno nei posti migliori di ottenere in anteprima la skin che tra l'altro ha un full set che fra poco vi faccio vedere arrivano altre skin femminili e maschili come vedete con tanti stili e soprattutto ripropongono Wildcat quindi il bundle di Nintendo Switch con una nuova skin che sarà sicuramente molto molto rara eccolo qua come vi avevo anticipato tutto il full set di Daredevil lui stesso dovrebbe avere due stili se non ho capito male uno rosso acceso quindi brillante l'altro invece normale il backpack è una specie di onda rossa doppio piccone classico con due mazze molto carino e il deltaplano che in realtà non è altro che un restyling di alcuni deltaplani che abbiamo già visto in game arrivano invece tre stili per questa nuova skin compresi anche sembrerebbe due picconi diversi molto bella con il cappello con il cappellino quello senza visiera e con lo zaino penso che il prezzo di questa skin sia a giri o 1.500 o 1.200 nuove skin sempre a tema Halloween invece arriva la controparte maschile della skin con la maschera e dietro invece abbiamo anche la parte maschile di quella skin che mi sfugge il nome era uscita l'anno scorso quella che aveva due stili lei la ragazza normale no Trina è quella non me lo ricordo la ragazza bianca normale e poi lo stile che diventava una ragazza di pezza beh quest'anno esce invece il maschio quindi set completo si può fare tutti i backpack li potete vedere in questa immagine niente di esagerato un paio di ali il pupazzino di pezza molto carino abbiamo quello di Daredevil che avete visto prima e vari zaini vari ed eventuali dopo i backpack ovviamente non potevano mancare i picconi anche qua alcuni sono doppi alcuni hanno uno stile quindi si può decidere di utilizzarlo singolo oppure doppio mentre altri sono semplicemente dei restyling di alcuni picconi che già purtroppo abbiamo in game andiamo avanti perché ecco i quattro stili della coppia di skin pit stop nuovi motociclisti quindi in arrivo vi ricordo che già abbiamo quelli bianchi poi abbiamo il motociclista del San Patrizio e adesso arrivano anche questi non sono brutti sinceramente lei e lui quindi molto carini stili oscuri verdi mi piace molto quello bianco con le fiamme gialle vabbè grazie mi piacciono le fiamme secondo me qua siamo sui 1500 bits e poi aggiornamenti invece per quanto riguarda la storyline principale la Nexus War che caratterizza il capitolo 2 season 4 di Fortnite da adesso sembra che in cielo sia possibile vedere distintamente Galactus prima avevamo solamente la luce che piano piano nei giorni è ingrandita adesso invece ragazzi possiamo vedere probabilmente zoomandolo lui e quindi si sta avvicinando come vi ho detto ci sarà un'altra patch a fine mese ma credo che per quanto riguarda tutta la storyline dovremmo aspettare novembre quindi l'ultimo mese di Fortnite tra l'altro ne approfitto per dirvi che hanno aggiornato i file relativi all'iTower event perché in questa season finalmente tornerà un bel evento almeno questo è quello che ci auguriamo ci sono stati degli aggiornamenti vi ricordo che iTower dovrebbe essere la location di Thor poi se n'è un pochettino persa a traccia adesso li hanno riaggiornati staremo a vedere che cosa hanno in mente due i nuovi balletti trovati nei file di gioco il Blinding Lights e invece un altro a tema ovviamente di Halloween il Witch Way dove c'è lui appunto seduto sulla scopa con la zucca per chi invece possiede la skin di Penny oppure la skin del Crash Tester abbiamo degli stili che verranno regalati ovviamente al momento in cui accedete a Fortnite dopo l'aggiornamento la versione del Crash Tester diventa in fibra di carbonio molto bella mi piace molto di più mentre Penny invece riceve un trucco da gatto quindi Penny Cut molto molto carina è tutta roba gratis perché no modifiche anche per quanto riguarda invece la modalità creativa arrivano delle nuove costruzioni nuovi prefabbricati che come vedete vanno a riprendere quello che è presente in questo momento a foresta frignante quindi abbiamo le torri quindi abbiamo la casa principale abbiamo il ponte sul fiume e tanti dettagli che potrete utilizzare ovviamente per costruire la vostra mappa ed abbellirla ma andiamo avanti perché un'altra modifica arriva per quello che riguarda l'armatura cinetica di Black Panther che da adesso è possibile trovarla in game quindi non so se abbiano tolto qualcosa o abbiano semplicemente inserito personalmente un po' che non trovo il whirlpool lì il coso della storm il vortice Black Panther se vi serve per fare le sfide della scheda punti potrete appunto trovarla in qualsiasi partita e ovviamente andare avanti aggiungono anche una nuova LTM del quale però non abbiamo il loading screen l'anteprima si chiama Takeover 8v8 sotto c'è tutta la descrizione ma ve la dico io direttamente in poche parole dovrebbe essere una specie di conquista Marvel quindi quella che abbiamo dove bisogna conquistare le piattaforme solo che essere 16 contro 16 o 18 contro 18 non mi ricordo siamo 8 contro 8 quindi una cosa un pochettino più contenuta boh staremo a vederla e notizia per tutti quelli che stanno aspettando l'arrivo della Ghoul Trooper sembrerebbe che arrivi finalmente entro fine mese hanno fatto degli aggiornamenti anche alla Ghoul Trooper non si parla di stili OG però io l'avevo già detto è molto probabile rivederla e terminiamo ragazzi tutta la patch notes con l'aggiunta di Key Change quindi un nuovo background musicale che va a riprendere il suono che c'è nell'emote del pianoforte insomma ragazzi patch niente di che per essere passate tre settimane speriamo che la prossima sia qualcosa di più interessante ragazzi di Twitch non andate via sto solamente mandando l'outro io vi saluto e ci vediamo in live su Twitch ciao